Pianista, si trasferisce a Roma in giovane età, dove collabora con Domenico Modugno, Rita Pavone, per la quale scrive Come te non c'è nessuno, Mina, Ornella Vanoni, per la quale scrive Cercami. Nel 1966 è scopritore di Massimo Ranieri e quindi suo autore, arrangiatore del repertorio più noto, tra cui Rose Rosse, vent'anni, Via del Conservatorio ed Erba di Casa Mia. Autore di 239 canzoni, anche insieme a Giancarlo Bigazzi, Franco Migliacci, Toto Savio, direttore d'orchestra, arrangiatore, produttore, come cantante solista incise vari 45 giri. Tra i quali dalla mia finestra sul cortile, 1961, indovina, 1962, sotto il sole, 1963, nel 1963 vinse anche il burlamacco d'oro con non ho pietà.